Conti salta Davidsen ma la palla rimane a Conti contro cross di Conti e gol di Altobelli Altobelli porta in vantaggio di Azzurri al 26 la maggiore capacità tecnica ha fruttato questo gol avete visto lo splendido cross di Bruno Conti mi ricorda quello effettuato in Spagna contro la Polonia nella famosa semifinale con il gol di testa segnato da Rossi era invertita la posizione si è consultato con uno sguardo con il suo guardarine e ha cambiato idea niente calcio di rigore continua l'azione con Davidsen che manda al centro un pallone guardate com'è il calcio sul quale di testa pareggia la squadra norvegese con Auckland ecco vedete il cross di Davidsen il colpo di testa di Auckland ed è il pareggio 1-1 dal possibile 2-0 l'idea è cambiata nel direttore di gara e sul proseguimento dell'azione la Norvegia ha pareggiato e non solo ma adesso passa in vantaggio passa in vantaggio con un gol difesa completamente ferma da parte e la Norvegia passa in vantaggio con un gol di Davidsen che tra l'amore che tra l'amore non solo ma adesso passa in vantaggio ma adesso passa in vantaggio per l'amore